Ciac si gira! Giorgio e Nicolà, benvenuti su Medit, sono super felice di essere qui con voi oggi per annunciare il lancio di H, la nuova piattaforma di investimento. Come sono i nostri ascoltatori su Medit o chi ci scopre oggi per la prima volta, una delle nostre grandi missioni è quella di promuovere l'ecosistema startup italiano, farlo crescere e tramite divulgazione e informazione si fa crescere a sempre più persone. Quindi noi abbiamo raggiunto tutte le persone a cui piace il mondo delle startup e che sono interessati a questo mondo, però chi meglio di te è Giorgio per farlo anche scoprire a nuove persone e quindi felicissima che questo ecosistema sta crescendo con un nuovo fondo, nuovi capitali. Ma prima di partire con le domande faccio una breve presentazione su di voi, anche se Giorgio non ha bisogno di grandissime introduzioni, sei ex calciatore italiano, uno dei difensori più conosciuti della tua generazione, hai giocato per la Juve, per la Nazionale. Poi nel 2023 ti sei trasferito a Los Angeles per giocare negli LAFC e soprattutto imparare, quando ci siamo incontrati mi dicevi imparare tutto quello che c'è da sapere sullo sport business dagli americani che sono anni di luce avanti su questo mondo. Poi recentemente hai tornato a Torino, hai lanciato l'agenzia Mate con Claudio Marchese che abbiamo avuto anche ospite su Medit, quindi andate a ascoltare quell'episodio se volete sapere di più. Hai un ruolo adesso con la Juventus, gestisci le relazioni istituzionali, sei LinkedIn Top Voice, Angel Investor e adesso anche co-founder. Mi sto dando da fare, mi sto dando da fare. Mi stai raccontando della tua settimana che è girata tutta Italia, non ti fermi mai, non ho dimenticato niente di altre cose che stai facendo in questo momento, ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui, è già abbastanza. Nicolai invece, Nicolai Nati, CEO di H Italia, prima di entrare nel mondo delle start-up consulente da Kearney dove ti occupavi di private equity e di M&A, sei poi passato nel dark side del mondo delle start-up, prima come operations director da Easyworks e poi hai lanciato due scale-up francesi in Italia come general manager, prima da Oversea, tra l'altro con mio fratello. Ci sono tanti punti di contatto con Nicolai, mio fratello che è stato uno dei tuoi primi hires, head of sales e poi sei stato country manager di BIM e adesso CEO di H Italia, ma fun fact per chi non lo sapesse, Nicolai è anche un compagno di liceo mio di Camilla. Quindi ci conosciamo da quando abbiamo più o meno 12 anni e devo dire da amica di Nico, è una delle persone più motivate, ambiziose che io conosca. Quindi felicissima di essere qui, adesso partiamo subito con le domande. Giorgio, non tanti sportivi poi si reinventano e si buttano un po' nel mondo delle start-up e degli investimenti. In America sempre di più, magari in Italia meno. Come hai affrontato tu questa transizione dal calcio all'imprenditoria, agli investimenti? Cosa ti appassiona di questo mondo? Alla fine è una passione, una passione che avevo anche prima che non ho avuto abbastanza tempo e testa per esplorare adeguatamente in passato, ma già negli ultimi anni ho cominciato facendo un po' gli investimenti, ma informarmi. Ho avuto la fortuna di avere la possibilità di conoscere poi anche in persona vari founder e avere qualche contatto privilegiato. Quindi sono entrato in questo mondo da qualche anno. Fra l'altro negli ultimi mesi, da quando ho cominciato a parlare di business e cominciare a preparare questo lancio di hack, ho avuto modo di conoscere non solo persone del mondo di questo ecosistema, ma anche sportivi. L'ultimo uno che mi viene in mente è Mario Gozio in Germania, che sta lavorando anche lui molto su queste cose, quindi anche in Europa piano piano sta partendo questa cosa, anni luce indietro rispetto all'America, ma credo che sia un interesse, che poi le persone vadano al di là dello sportivo, che può essere calcio, basket o qualsiasi altra cosa. Mi piace, sto facendo tante altre cose, sono contento di quello che sto facendo ancora nel mondo del calcio, ma credo che finché uno può non è anche giusto non limitarsi a quello, ma nel mio caso la speranza è di riuscire ad essere un aiuto un po' all'ecosistema italiano. Ovviamente non sono io che riesco a cambiare il mondo, ma tramite tante piccole azioni si può dare veramente una spinta in più a questo mondo in cui io vedo grande potenzialità. Sì, diciamo che in Italia siamo un po' indietro rispetto a tanti altri ecosistemi europei, ovviamente l'America, siamo tutti indietro all'America su questo, però è importante avere delle figure come te, che comunque hanno un grande seguito proprio per far scoprire questo mondo, come dicevo prima, a nuove persone, anche a nuovi ragazzi che magari sanno che nella loro carriera non c'è solo magari il posto fisso o l'azienda, ma c'è anche la possibilità di creare la propria start-up e di lanciarsi in questo mondo. A livello personale come hai affrettato il cambiamento di lasciare lo sport proprio da atleta? C'è stato un momento di down per te o ti sei ripreso subito perché avevi già degli interessi che stavi coltivando? Mi sono preparato, mi sono preparato, quindi già durante la carriera, poi comunque studiando, raggiungendo la laurea, facendo l'NBA, già un minimo cominci a pensare al domani. L'esperienza americana è stata funzionale anche a questo, a non lasciare proprio dall'oggi al domani essere capitano della Juventus e della Nazionale a smettere, ma ho avuto un percorso dove volevo aprirmi la mente, volevo vedere qualcosa di nuovo, volevo migliorare poi l'inglese che è una parte importante anche nel conoscere le persone, nell'entrare dentro certe culture e non c'era miglior posto nell'America per farlo. Ho avuto la fortuna di vivere due anni a Los Angeles e mi ha cambiato, spero in positivo, e adesso sono di nuovo qua con tanta voglia di iniziare questo nuovo percorso e mi sono buttato onestamente appena finito la carriera, è stato proprio un finire per poi ripartire, ma è stato programmato piano piano da anni, senza aver tutto preciso nei dettagli ovviamente, però l'idea nella storia ce l'avevo in testa. Sì, perché può essere anche un momento da un sa difficile per un atleta, da che ti svegli da un giorno e fai allenamenti per tutto il giorno, a, ok oggi non vado più a fare l'allenamento, cosa faccio, quindi preparassi, ne avevo parlato anche intanto con Claudio quando ero a sto su Medi e ti ci raccontava anche di questa adrenalina che è la cosa che gli manca di più di quando entri sul campo e hai diecine di migliaia di persone che insomma urlano, è quasi una droga questo sentimento. Sicuramente è molto difficile, a me la cosa che manca di più è riuscire a prendermi cura del mio corpo tutti i giorni, perché poi quando stai bene col tuo corpo approccia la vita e in maniera diversa, ora avendo poi lavorando, avendo tanti interessi, tanti impegni ho questa mia possibilità, perché lo spogliatoio alla fine ti manca il gruppo di ragazzi con cui sei cresciuto, però lo riesci a fare nei vari ambienti di lavoro, che crei il tuo gruppo di lavoro che diventa un po' il tuo spogliatoio. Adrenalina sì, però quella ormai mi ero reso conto che non riuscivo più a star dentro certi livelli, prendersi cura del mio corpo è una cosa che mi manca di più. Quindi non sono solo noi che non riusciamo più ad andare in palestra, anche tu non ci riesci più ad andare. Siamo qui per annunciare questo nuovo progetto di Q6 Co-Founder, ACCA, che tra l'altro è una piattaforma di investimenti ma è un po' diversa da un classico fondo. Ci puoi raccontare in che modo è diverso da un fondo tipico di venture capital e cosa ti ha attratto da questo progetto? Io ho conosciuto Tomas all'inizio di quest'anno a Los Angeles e la cosa che più mi ha coinvolto di questo progetto è la possibilità di farlo in modo diverso. Solitamente è un gruppo abbastanza chiuso, non si riesce ad entrare molto facilmente, ci vogliono capitali e conoscenze. Quello che vorremmo fare con ACCA è tramite una membership, comunque diversi livelli di membership, ma renderlo più accessibile a tutti e dare la possibilità tramite comunque le nostre conoscenze, i nostri contatti e un gruppo di lavoro dietro dove Nicolas è il zio, ma ci sono tante altre persone, Thomas Riboy, il primo, di riuscire a dare un prodotto di livello a tante persone. Prenderlo un po' in modo diverso, renderlo accessibile, innovativo, moderno, che veramente dire al senso di quello che è poi la startup e questo mondo e farlo per l'Italia. In che modo, Nicola, ci puoi raccontare in che modo è diverso la vostra piattaforma da una piattaforma di equity crowdfunding, per esempio? Sì, sì. Per tornare intanto rapidamente sui fondi e come i fondi si spostano lentamente verso il late stage, noi ci spostiamo appunto di più verso l'early stage. Rispetto appunto, quando parliamo di democratizzare gli investimenti in startup e quindi di portare capitale privato, che è la fine della grande innovazione qui, portare capitale privato nell'investimento in startup, la grande differenza rispetto alle piattaforme di crowdfunding è che tipo di investimento e di qualità di investimento andiamo a proporre. Una piattaforma classica di crowdfunding, l'obiettivo appunto è di avere quanto più imprenditori che mettono online il loro business plan, il loro deck, tutte le informazioni anche sensibili al loro business e poi vabbè queste piattaforme si prendono magari una percentuale del capitale che tirano su per questi fundraising. Noi abbiamo un modo di funzionare totalmente diverso che in realtà si avvicina molto di più a un fondo di venture capital. Nei paesi in cui operiamo ad oggi, che sono la Spagna e la Francia, ogni mese i nostri team di investimento ricevono più di 300 deal, ogni mese, e ne selezionano tra il 0,5% e l'1% per proporre tra l'uno e due investimenti al mese ai nostri membri. Quindi diciamo che rispetto a una piattaforma di crowdfunding appunto entriamo su investimenti con altri fondi di venture capital e proponiamo investimenti di top qualità fondamentalmente. diamo accesso ai top investimenti che ad oggi sono inaccessibili. Stavo guardando tra l'altro sul vostro sito che c'è anche tutta una parte anche di formazione. Ci racconti un po' di più di che tipo di formazione? Sì, sì, è vero. Tra l'altro, esatto, per completare rispetto a una piattaforma di crowdfunding tradizionale o una piattaforma di investimento diciamo, non offriamo unicamente la possibilità di investire ma diamo appunto agli investitori gli strumenti per poterlo fare perché noi non investiamo al posto degli investitori, noi investiamo e diamo la possibilità agli investitori di investire con noi. Quindi un investitore deal per deal può decidere se farlo o no e quindi a parte dargli la possibilità di investire, gli diamo anche gli strumenti per farlo via ore di contenuto di formazione su quello che noi chiamiamo l'academy e anche tramite un network. Tutti i membri possono contattarsi tra di loro, organizziamo tantissimi eventi online, webinar con Giorgio, con Tomà, con altri founder, top CEOs, pitch diretti, link diretti con gli imprenditori. Quindi i nostri membri possono ascoltare i pitch degli imprenditori che tirano sul capitale. Organizzeremo anche eventi in presenza. In Francia ad esempio ogni mese c'è un after work dove tutti i membri città per città si possono incontrare e fare networking. Una volta l'anno abbiamo un gala dove ci sono top CEOs, top founders, top content creator, persone come te, persone come Giorgio. Il secondo anno non mancherà. Esatto, quindi offriamo molto di più della possibilità di investire. Cerchiamo veramente di creare un'atmosfera e una piattaforma in cui creiamo armonia tra l'imprenditore e l'investitore. Quindi le parole che mi vengono un po' per ricapitolare tutto sono l'opportunità di investire per persone che non hanno da mettere 50.000 o che non sanno come accedere al mondo delle start-up, quindi democratizzazione dell'accesso, si può investire con 1.000 euro, formazione, quindi tutta la parte di academy, quindi di lezioni e poi una parte di community, quindi connettere con persone che sono interessate a questo mondo. Giorgio, ci racconti un pochino invece del tuo ruolo come co-founder dentro ACCA, in che modo apporterai valore alla piattaforma? Prima di tutto spero con connessioni, perché poi conosco tante persone e come ti raccontavo prima di registrare, nell'ultimo mese tantissime persone di alto livello di questo mondo mi hanno contattato, curiosi di capire cosa stava succedendo. Quindi non solo tanti start-up, ma proprio anche tutta l'altra parte di connessioni e spero di riuscire a portare un valore aggiunto. Parteciperò anch'io con Nicolas ai vari incontri con i founder nella selezione, poi ci sarà un gruppo tutti insieme, insieme a Thomas e Nicolas, dove decideremo su quali start-up procedere, investire e dare la possibilità anche ai nostri membri di farlo e poi spero con il contatto con le persone. Alla fine sono sempre convinto che conoscere e sentire le persone, vivere le persone, parlare sia poi il vero motore di questo mondo, le emozioni che porti dentro e riesci a trasmettere valgono. Poi è un viaggio che affronteremo insieme con grande entusiasmo e sono davvero fiducioso di poter fare davvero un progetto molto bello con tutte le persone e con H. Invece te, Nicola, a livello di CEO Italia, cosa vuol dire, che ruolo avrai, di cosa ti occuperai? Il mio ruolo in quanto CEO è un ruolo di sviluppo fondamentalmente e l'obiettivo di H è di diventare in 24 mesi il più grande fondo early stage in Italia. Early stage vuol dire concretamente investimento nelle fasi iniziali del ciclo di vita di una start-up, quindi tutto quello che è pre-seed, seed, fino al series A e quindi ecco sì, il nostro obiettivo è diventare il più grande fondo in Italia e poi perché no nel mondo, ma lascerò ad altri questo ruolo, sarà la somma di tutti i nostri, di tutti i paesi in cui apriamo che farà questo. Per arrivare appunto a questo obiettivo, naturalmente adesso ho iniziato proprio nel tirar su un team, quindi reclutare top profili. Noi proviamo a reclutare solamente quello che chiamiamo gli A players, avere una roadmap chiara con gli obiettivi chiari, delle milestones, sapere dove andiamo e sapere segmentare tra short term, medium term, long term. Credo che avere poi una piattaforma come la nostra che ha già fatto questo percorso in Francia e in Spagna non partiamo proprio da zero. Sì, infatti questo non abbiamo ancora detto, ma questa è la parte Italia, no? Quindi c'è in Francia è avviato già… In Francia già da qualche anno, da un anno in Spagna, stiamo partendo anche nel nord Europa, quindi c'è un collegamento che permette di non partire proprio da zero. Poi in realtà è diversa, quindi bisogna adattarci, non è un copiare, ma c'è un team che ha già un'esperienza, dovrà lavorare tanto nelle prossime settimane, mesi, stiamo partendo, creando questo team con veramente tanto entusiasmo e convinti di poter iniziare subito alla grande già da questo fine anno. Invece a livello di come selezionate le start up, c'è una filosofia un po' diversa, avete un metodo specifico, quali sono poi i settori che state guardando? Nel modo che abbiamo di selezionare le start up, diciamo che abbiamo… riceviamo i deck via il nostro… abbiamo un deal sourcing classico che può essere molto paragonabile a quello di un fondo di venture capital tradizionale, quindi abbiamo il nostro team di investimento che fa networking tra vari fondi, partecipa ai eventi, ad esempio abbiamo partecipato all'Italian Tech Week qualche settimana fa, abbiamo il network di Giorgio che non è un'esperienza una gran differenza rispetto ad altri fondi, ad altri modi di fare deal sourcing, penso che tu sia già stato inondato di deck. Inondato di deck, più portato alcuni io che magari alcuni a cui ho già partecipato che siamo… Non mancano… Ma il lavoro per Nicholas non manca e per gli altri ragazzi non lo faccio assolutamente mancare. Non ci si annoia. E poi tutto questo deal flow va analizzato e va selezionato, abbiamo dei metodi che ad oggi stiamo portando dagli altri paesi che stiamo affinando in Italia e che affineremo sempre di più, sempre di più nel tempo diciamo. Siamo affineremo, abbiamo una ipotesi di tesi di investimento che andrà ad affinarsi nel tempo quando metteremo veramente le mani sul mercato italiano e lo stiamo facendo adesso perché siamo in piena apertura. E poi ci sono già dei settori in cui siete particolarmente interessati? Ci piace investire in quello che capiamo, questa è la cosa più importante, no? È in quello che possiamo anche far capire ai nostri investitori che sono i nostri membri. Quindi diciamo che dei settori in cui saremo necessariamente un po' più affini magari saranno dei settori B2C, non necessariamente ma ci sono delle possibilità che siano B2C per creare anche sinergie tra… Il B2C consumer. Sì, esatto, consumer. Perché B2C per chi sa di questo mondo sa che è consumer, però diciamo tutto quello che non è due aziende, un business per due aziende ma che ha un consumatore finale diciamo come noi… Esatto, esatto, ma appunto per chi ci ascolta non voglio neanche togliere il B2B che sarebbe business to business, quindi è semplicemente… ovviamente abbiamo degli investitori che sono privati e quindi si creano più sinergie magari per avere più ambasciatori, early adopters su dei prodotti o su dei servizi che sono rivolti al consumatore finale, no? Investiamo in società che hanno un prodotto o un servizio che hanno trovato diciamo il loro fit sul mercato, quindi che sono stati… non sono alla ricerca di un prodotto o di un servizio ma l'hanno provato, c'è una domanda, hanno dei primi clienti, delle prime vendite. Per darti un'idea investiamo solitamente in società che hanno un fatturato che va dai 150 mila euro ai 3 milioni l'anno e investiamo come diceva Giorgio appunto soprattutto anche in un team, quindi sono… comunque nel early stage si investe tantissimo nel team e deve avere una visione molto chiara, avere una market share, quindi delle quote di mercato, un po' dimostrate e una visione, una visione definita, un'ambizione ben chiara con una bella roadmap per arrivarci. Sì, su questo podcast abbiamo intervistato tanti investitori, una delle cose che esce fuori di più è l'importanza del founding team, quindi chi sono i primi, sia i founders ma chi sono anche le prime persone che vengono a lavorare perché si può avere un'idea mediocre ma con un founding team fantastico e poi magari cambiare l'idea piuttosto che l'idea ma diciamo se è fantastico ma il team è mediocre non andrà mai da nessuna parte perché alla fine è tutto sull'esecuzione, lo diciamo sempre, 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 quindi ricordatevi quanto è importante chi portate a bordo delle vostre start-up o dei progetti. I compagni di viaggio sono sempre molto importanti. Soprattutto su un progetto nuovo in cui ogni persona conta davvero tanto. Anche il nostro. Esatto, il nostro, anche da voi. Un'altra cosa che diciamo su questo podcast quando intervistiamo gli investitori è che non tutti i soldi sono uguali, ricevere i soldi, lavorare con un fondo, lavorare con un altro fondo sono stili diversi, ci si sposa quasi un po' con gli investitori. Perché un founder dovrebbe venire da voi anche a raccogliere da voi? Che cosa portate di diverso ad altri fondi? Quello che noi possiamo portare, e poi tra l'altro ti lascerò rispondere su come, ma sicuramente è un network unico perché appunto una delle tante forze di Giorgio è proprio questo, negli anni si è costruito un network pazzesco e per noi non ha valore questo network qui e poi il lato nostro più team esecutivo, sicuramente un supporto anche operativo alle start-up, io ho messo le mani in pasta di start-up, io storicamente non sono un investitore, Tomà anche è un fondatore di un unicorno lui e abbiamo tantissimi anche nel team in altri paesi, tantissimi altri co-founder o founder di start-up di successo e diciamo che è questo network, noi ci parliamo tutti i giorni su Whatsapp tra di noi in due secondi. L'idea è di unire un po' queste due anime, da una parte quella molto tecnica di persone di altissimo livello, dall'altra quello che posso portare di me sicuramente è Connection. Un tassello un po' diverso perché potete dare anche un'esposizione sia tramite te e tramite comunque il reach che tu hai e tutte le persone che tu a cui puoi connettere magari un founder con qualcuno per aumentare il business. Io credo che una delle cose che mi sono sempre piaciute più è riuscire a connettere le buone persone e le brave persone e in questo caso se uno ha una buona idea e tante volte non ha la possibilità di riuscire ad accedere a certe persone e anche solo metterle in contatto poi diventa un qualcosa che è un win-win che per questa persona ha la propria idea e la porta avanti e veramente la speranza è di riuscire a unire queste due anime e io aggiungerei la convinzione di riuscire a farlo e poi andare avanti con Acca e fare qualcosa per gli investitori, per noi, per tanti start-upper e vedremo nei prossimi anni però c'è grande entusiasmo dentro tutta questa nuova avventura. Se poi il network è una delle cose più importanti non sai mai come ti può cambiare la vita tua o del tuo business una presentazione a un potenziale cliente importante o un altro investitore importante, basta un meeting, basta una persona che ti può svoltare davvero il tuo business e è vero che quando parti da founder magari non hai accesso a certe persone a questo network tramite i vostri contatti si possono accedere a tante cose, quindi se un founder è interessato a presentarsi, quali sono le cose, cosa deve fare per presentare la propria start-up, andare sul vostro sito, candidati, cioè c'è un modo… Ci sono vari modi sicuramente poi tramite il sito, l'applicazione, tramite direttamente le persone, il modo di arrivare, inviare il deck e farsi conoscere, dietro c'è tutto un team che studia ogni offerta e che ritorna poi a contattare per avere chiarimenti e poi c'è una selezione, una selezione di molto… Difficile direi perché… Difficile come lì fa, ha già appena detto è una piccola percentuale perché ovviamente si cerca di scegliere poi quelli che sono i migliori, che uno ci crede maggiormente, però sono tante persone che lavorano dietro a queste cose e vi assicuro che solo nell'ultimo mese video, sono arrivate veramente decine e decine, più di un centinaio di… E non siamo ancora live… E non l'abbiamo ancora lanciato ufficialmente… E con uscire da questo video migliaia di… arriveranno migliaia… E' un piacere… Ti sintasero all'inbox… E' un piacere perché quando quelli che riesco gli do un occhiale e cerco di andare oltre, altri me li segnalano loro, cioè proprio per farne parte, questo è proprio… Altre ce le hai già segnalate tu… Altre ho già avuto modo di passare quelle che ritenevo diverse dalle altre perché poi, come aveva detto anche Nicolás prima, una cosa devi piacere, cioè se non ti piace fai fatica ad andare avanti, quindi da quando parte già che piace a una persona c'è già un primo passo e poi c'è un confronto e poi dopo si ha uno studio approfondito… Certo. E da utente ci raccontate un po' dell'esperienza, quindi uno si… come entra a far parte insomma di H, cioè si è un abbonamento, è un deal by deal, si investe nel portafoglio in cui tu investi, posso decidere in che startup ti presentare e investire… Ci sono cinque diverse membership e uno decide di quale scegliere ovviamente con dei benefici diversi, ma una base comunque accessibile che la minima sono mille euro e poi ogni deal che proponiamo, in teoria è uno ogni 3-4 settimane, la media poi da vedere quelle che poi sono realmente quelle che ne valgono la pena, si può decidere di entrare o non entrare, il gruppo entra e ci sarà ovviamente una certa quantità con dei privilegi diversi, però si può decidere di entrare a tutti, di entrarne alla metà, di non entrare magari a nessuno perché non convincono o magari solo due perché ci piacciono particolarmente, non c'è nessun obbligo e poi andiamo avanti in questo mondo, i risultati si vedono dopo qualche anno, però quello che veramente è il nostro obiettivo è crescere mese dopo mese, anno dopo anno, la speranza di vederci alla cena di gala del prossimo anno con una community importante, con dei deal fatti dove entriamo comunque in modo sostanzioso e piano piano che questo gruppo riesca a connetterci sempre di più e si creino anche tante possibilità fra i vari utenti, questo è un po' il nostro goal. E poi sì, effettivamente via la piattaforma, ovviamente sì, sono investimenti che durano nel tempo, sono investimenti lunghi. Quindi non è come comprare gli stocks che sono le azioni sul mercato e poi le puoi vendere se si servono nel capitale domani. Non è un investimento arbitrario, è un investimento di pazienza. No, c'è un ciclo di investimenti, questo è importante in realtà da dirlo perché chi non è addetto a questo mondo, chi non conosce questo mondo, sono gli investimenti su quanti anni più o meno? Eh, diciamo che sì, come minimo, minimo, ma proprio minimo tre anni, diciamo, il classico è cinque, si può andare fino a dieci, dipende un po' dal… appunto prima parlavo di early stage, parlavo di pre-seed, seed, series A, diciamo che in funzione di dove si entra dura più o meno tanto, però ecco, una cosa importante è che via la piattaforma si può monitorare l'andamento di queste start-up, si rimane connessi all'investitore, cioè gli investitori rimangono connessi all'imprenditore e ovviamente via noi che facciamo da intermediario diamo aggiornamenti costanti sulle start-up nelle quali investiamo, noi siamo tutti al board delle start-up, quindi ovviamente aiutandole abbiamo anche degli insights, sappiamo esattamente come stanno andando le start-up e diamo delle reportistiche trimestrali, con le metriche, con gli andamenti di queste start-up, quindi sì, ovviamente il tuo investimento dura qualche anno, però sai come sta andando questo investimento e ti permette anche di aggiustare la tua strategia di investimento e di equilibrare il tuo portafoglio. Alla fine anche aiutare gli start-up, cioè far parte, veramente essere un buon compagno di viaggio per arrivare tutti insieme alla metà finale e poi i membri della nostra community sono una parte di noi stessi, però l'idea è proprio come di far parte proprio di essere una bella navigatore di queste nuove start-up e insieme fare un bel viaggio. Anche perché di aiuto ce n'è bisogno, le start-up sono comunque un investimento ad alto rischio, per tutte quelle che ce la fanno, ce ne sono anche tante che non ce la fanno, quindi avere supporto e compagni di viaggio che ti possono aiutare a sbloccare alcuni deals o aprire porte o aiutare a superare gli ostacoli è davvero importante e giusto per tornare ai 1.000 euro, perché è il minimo per investire, è 1.000 euro per start-up o è 1.000 euro che posso dividere su varie start-up durante l'anno? No, proprio il minimo per investire, il ticket minimo per ogni membro per entrare in un investimento è di 1.000 euro. Ok, quindi 1.000 euro a investimento, diciamo. Sì, 1.000 euro a investimento. E poi tutti questi soldi vanno insieme, perché bisogna anche dire per entrare nei buoni deal, perché i fondi entrano nei buoni deal, più soldi hanno è più importante, quindi democratizzando questi investimenti, raccogliendo da più persone possibile è così che si ha anche accesso a dei grossi deal, perché singolarmente se tutti fossimo divisi, diciamo no, abbiamo molto meno accesso, meno capitali da inserire, quindi anche questo è un po' un grande vantaggio. Per noi è fondamentale, noi ci riposiamo, il nostro business model appunto si riposa su una grande community di membri, in Francia in solamente 24 mesi abbiamo 9.000 membri e in Spagna in meno di un anno ne abbiamo circa 1.500, in Italia abbiamo delle ambizioni simili, a me piace pensare che faremo meglio, ci riposeremo sicuramente su una community grande ed è questa che fa la forza un po' della nostra capacità di investire in grandi round o in startup che avranno un impatto diciamo sull'ecosistema. E quindi per tutte le persone che ci stanno ascoltando o guardando e che sono interessati a far parte di Hack e investire con voi, come si fa? Abbastanza semplice, basta andare su h.app, cioè iscriversi alla lista di attesa, dai nome, cognome, la mail, i tuoi dati, vieni ricontattato, al momento del lancio i posti sono limitati e poi da lì in poi ci sarà uno screening di tutto quello che le persone, di cercare di connettere le persone giuste all'inizio che faranno parte di questo lancio nelle prime settimane e poi a breve partiremo e inizia questo bellissimo viaggio. Come avete detto andate su h.app se volete sapere di più iscrivervi alla waiting list e nel frattempo voglio anche fare un piccolo disclaimer perché ovviamente il mondo degli investimenti prende un grande rischio, le start up sono high reward ma anche high risk quindi vuol dire che se investite potete anche ovviamente perdere il vostro investimento come lo potete magari, si spera, moltiplicare però bisogna sapere che quando si investe c'è sempre un rischio di perdere il capitale. Quindi grazie di essere stati qui con voi. Grazie Les.